è stato anche quest'anno il campo dell'oratorio di san bernardo alodi ad ospitare il tradizionale torneo riservato alla categoria esordiente intitolato gianantonio negri segretario dell'unione artigiani ha lasciato una solida impronta nella realtà locale per questo che la famiglia e l'associazione degli artigiani lo ricorda ogni anno con un torneo di calcio quest'anno si sono confrontate le rappresentative di tribiano san bernardo laudense nuova lodi alla finale per il primo secondo posto sono approdate nuova lodi laudense chiusi sullo 0 a 0 i tempi regolamentari la partita si è decisa i rigori fatali due errori consecutivi dei giovani della laudense alle premiazioni conclusive è intervenuto anche il parroco di san bernardo don peppino bertoglio che ha ricordato i valori i quali si deve ispirare l'attività sportiva poi la consegna dei trofei al quarto posto si è piazzato il tribiano preceduto al terzo posto dalla compagine locale del san bernardo premiati poi il miglior portiere simone lombardo del san bernardo il miglior giocatore in campo matteo grazioli della nuova lodi ed il cannoniere del torneo con tre reti si è in posto jacopo agati del tribiano infine le prime due classificate al secondo posto la laudense dal primo tra gli applausi generali la nuova lodi per tutti appuntamento all'anno prossimo con la nuova edizione del torneo gianantonio negri all'anno prossimo con la nuova edizione del torneo